Siamo a Colonnella con il neosindaco Biagio Massi che continua a salutare i suoi elettori, i suoi fedelissimi per questo risultato. All'inizio tanta incertezza, poi con le ultime sezioni sindaco il colpo finale, quello decisivo, le prime impressioni? Intanto io prendo atto dei suoi risultati, io non li ho e fin tanto che non vedo l'ultimo numero certificato da buon ragioniere faccio ancora gli scongiuri che sia vero e sia così. Quello che avverto è una grande responsabilità, come ho sempre detto, grande voglia di fare qualcosa per questo Paese, anzi di fare tutto quello che serve per questo Paese, grande rispetto e speranza di poter stabilire un contatto serio, collaborativo, costruttivo con coloro che hanno messo a disposizione di questo Paese la loro candidatura. Detto questo, lavorare da subito e lavorare per 365 giorni per i cinque anni futuri, niente di più. Quale sarà il primo lavoro appena seduto a Palazzo di Città? Perché ovviamente le cose da fare ce ne sono tante. Il primo lavoro, il primo obiettivo da centrare per il sindaco Massi quale sarà? Io credo che bisogna riprendere i fili laddove la gestione precedente li ha lasciati, conoscere esattamente lo stato dell'arte, ma soprattutto conoscere i collaboratori del Comune. Io ho grande fiducia di stabilire con queste persone un rapporto sereno, come sempre fatto nella mia esperienza lavorativa. Io credo che avere una squadra che nel Comune lavora immotivata e soprattutto riconosce un capo di quella comunità in grado di poterlo, di aiutarlo. Questo mi viene da dire. Io penso che il primo gesto sia fare questa cosa qui e poi naturalmente fare quello che serve, riprendere le cose da fare, riprogrammare quello che è necessario programmare e sperabilmente di fare delle cose visibili per ogni cittadino che ha dimostrato tangibilmente, anche oggi con i risultati arrivati in modo frastagliato, ha dimostrato tanti tanti bisogni e tanta voglia che qualcosa cambi, che cambi velocemente e sia visibile fin dall'inizio.